Tre trasferte tutte potenzialmente complicate. Il weekend calcistico delle squadre gerresi ripostesi che partecipano ai campionati di prima e seconda categoria si presenta a prima vista complesso e ricco di insidie. Ad inaugurarlo ci pensa la Russo Calcio che questo pomeriggio alle 14.30 cercherà di sfatare il tabù trasferta in casa del Santa Domenica di Vittoria. Mister Antonello Musumeci non ha ancora visto svuotarsi completamente l'infermeria ma quella che è la miglior difesa del campionato andrà come sempre a giocarsi all'avviso aperto e senza timori di sorta nonostante i quattro punti in più dei rivali che si trovano a ridosso della zona playoff. In seconda categoria invece la graduatoria per gli spareggi promozione al momento guidata dal calcio Giarre, secondo in classifica con ben quattro punti di vantaggio sul gruppone capeggiato dall'atletico Mascaluccia. La graduatoria è cortissima, il Giarre impegnato domani in casa del Nicolosi IV all'obiettivo di tenere a debita distanza le inseguitrici sperando in un passo falso della battistrada Villaggio Sant'Agata impegnata nel big match di giornata proprio contro il Mascaluccia. In casa riposto invece servono punti e fiducia. La squadra di Tomaselli ha sole tre lunghezze dalla zona promozione. Fare risultato col pieno tavola, nono in classifica con un punto in più dei giallo-verdi sarebbe una grande iniezione di fiducia per Maurizio Anastasi e compagni.